Ha bisogno di un canestro Sant'Antimo, ribalta al lato dove c'è la penetrazione, tiene la difesa della Beccari, Quarisa riesce a recuperare, poi cerca l'up, non lo trova, ancora Quarisa contro due giocatori della Beccari che si è chiusa bene, dieci secondi per attaccare in casa Sant'Antimo e poi c'è un fischio da parte degli arbitri che fermano quest'azione e c'è un fallo della Beccari Piacenza, fallo commesso da Mastroianni che si è subito accusato Giocatore bianco-rosso, erano andati in due con una marcatura strettissima ai danni di Quarisa che era quasi fuori dal campo in qualche modo poi è riuscito a trovare un fallo, Quarisa con gli arbitri che hanno aiutato il giocatore di Sant'Antimo che però sbaglia la prima conclusione dalla linea della Carità, ne avrà una seconda eccola qui, pronta a partire a bersaglia, quindi siamo 80 pari quando mancano 32 secondi al termine e c'è anche lo spauracchio overtime ovviamente all'orizzonte per Beccari e Sant'Antimo palla nelle mani di Mastroianni che consegna a Maglietti, possesso fondamentale per i bianco-rossi Maglietti arriva a centro area, cambia passo, poi passa sotto la gabbia, riapre per Besedic da tre Jure Besedic, la bomba del giocatore Slavo e che spettacolo la Beccari Piacenza con un'altra giocata zingarata di Maglietti, riapertura per Besedic che nel momento più importante trova l'asso nella manica time out per Sant'Antimo ma la Beccari è a più tre, a più tre in questo finale che bomba di Besedic, che costruzione di Maglietti, hanno giocato solo loro due in questo ultimo possesso fondamentale per la Beccari e hanno trovato un canestro decisivo anzi potrebbe essere decisivo, usiamo ancora queste formule perché Sant'Antimo avrà il pallone dopo il time out per andare dall'altra parte e provare a pareggiare il match per spedire tutto quanto all'overtime, mamma mia che tensione, che finali, finale indeciso sul campo della Sijeko, finale indeciso a Sant'Antimo, è questa proprio la bellezza del basket che ci propone sfide di altissima qualità, sfide tirate in tutti i campionati, poi in questa serie B d'Elite il livello si è ulteriormente alzato, Beccari a più tre, 80 Sant'Antimo, 83 per i biancorossi ma il pallone è per la formazione campana, mancano 14 secondi, Sant'Antimo può solo tirare da tre punti per spedire tutto quanto all'overtime, la Beccari deve difendere, deve provare magari anche a commettere fallo per evitare la tripla ma evitando il fallo sul tiro da tre punti, Escedri, la sua bomba, solo primo ferro, rimbalzo di Besic che sigilla il pallone, poi Soviero scappa via la pressione, arriva dall'altra metà campo, c'è fallo da parte di Cantone ma adesso la Beccari avrà due liberi per provare a sigillare questa vittoria, sette secondi al termine, fallo di Cantone ai danni di Soviero, anzi no scusate non ci sono i due liberi, c'è una rimessa per i biancorossi quindi si deve sudare fino alla fine, Beccari non deve assolutamente sprecare questo pallone, Soviero la mette in campo per Besedic, prova a difendere Sant'Antimo, poi c'è il fallo ai danni di Jure Besedic, fallo obbligatorio a questo punto per Sant'Antimo che non poteva più lasciare scorrere il cronometro, fallo di Mennella ai danni di Besedic, due liberi chiave per il giocatore in maglia numero 23 che poco fa ha segnato una bomba decisiva, 4 secondi al termine, Besedic in lunetta, bersaglio col primo, a bersaglio Jure Besedic e quindi è 8-4-8-0, Beccari vicinissima alla vittoria in trasferta, sarebbe la terza vittoria in trasferta quest'anno, 2 su 2 Besedic, 8-0-8-5, palla nelle mani di Sant'Antimo che risale il campo, Camperidis ci prova da 3, non va, è finita il palasport di Sant'Antimo, può esultare la becca di Piacenza, seconda vittoria consecutiva dopo la passeggiata contro Lissone Brianza, arriva il grande risultato in trasferta Sant'Antimo, seconda vittoria consecutiva per i biancorossi che agganciano in trasferta proprio i campani. Grazie a tutti.